gentili telespettatori buona giornata davvero matteo salvini sta meditando il papete bis il papete 2 quella che è stata indicata come la possibile uscita dal governo della lega di matteo salvini ci sono delle indiscrezioni quindi sta meditando l'uscita ecco un indiscrezione che ha del clamoroso arriva da d'agostino dal sito d'agospia secondo cui il capo della lega starebbe valutando l'uscita dal governo presieduto da mario draghi i tempi vengono descritti come brucianti dato che ad agosto inizia il semestre bianco di mattarella a far meditare l'ex ministro dell'interno sarebbero anche i sondaggi e la posizione dell'alleata giorgia meloni fratelli d'italia sta guadagnando punti essendo l'unica forza all'opposizione dell'esecutivo il suo partito da stabile è tendenzialmente in discesa cioè continua la perdita di voti c'è un travaso di voti dalla lega a fratelli d'italia questa è la realtà a giudicare dalle cifre delle ultime degli ultimi sondaggi l'atteggiamento più conciliante della lega nei confronti dell'unione europea e soprattutto di mario draghi non sta pagando più di tanto quindi tutto l'impegno che sta mettendo matteo salvini per cercare di gestire questo governo di far sì che venga ascoltato si ha prodotto dei risultati perché ha ottenuto ha ottenuto di essere ascoltato più di una volta da mario draghi abbiamo parlato tante volte però l'effetto elettorale non si è sentito non si è sentito molti dei commenti dei leghisti sono salvini esci subito salvini cosa hai fatto salvini di qui salvini di là sono molto meno i commenti di persone contente per la lega nel governo di quelle che non lo sono inoltre secondo dagospia il segretario si aspettava forse di riuscire a incidere di più all'interno di questo governo che invece soprattutto sul tema di chiusure riaperture mostra una certa continuità con quello precedente a questo punto ottiene un risultato eclatante in chiave economica per le partite iva della lega nord dissestate dalla pandemia o ritorna all'opposizione e l'analisi del sito di roberto dagospia e roberto roberto scusate roberto dagostino è ne sa sempre una più del diavolo perché è una persona che è super super informata forse una delle fonti più autorevoli in ambito politico per chi con non conoscesse roberto dagostino e il suo sito dagospia un eventuale abbandono del governo draghi creerebbe un pesante problema per 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 mattarella crisi sostituzione dei ministri fuga di parlamentari di forza italia verso la lega e quindi indebolimento della nuova compagine governativa per non parlare dell'immagine dell'italia a livello europeo con una vaccinazione che stenta raggiungere l'immunità di grege entro l'anno naturalmente con l'uscita della lega dal governo il governo avrebbe comunque i numeri per continuare perché ci sarebbe dentro forza italia che andrebbe a sostenere appunto andrebbe a sostenere comunque il governo draghi certo non avrebbe più i numeri eclatanti di prima però avrebbe lo stesso i numeri per andare avanti il problema potrebbero essere la fuga di parlamentari di forza italia verso la lega proprio per trovare principalmente un posto di lavoro e quindi ci potrebbero essere fughe dei grillini fughe da forza italia e potrebbero così compromettere anche eventualmente i numeri del del governo salvini ieri ha scritto una lettera a vittorio feltri vittorio feltri gli diceva amico mio devi andare via ti umigliano in quel governo che ci fai lì torna milano ma matteo salvini ha risposto a feltri con una lettera dicendo guarda io non posso lasciare l'italia in mano a al pd e ai 5 stelle per fare lo ius soli e io tornare a milano e stare lì a criticare col computer ecco sicuramente è una è una visione alquanto inquietante no dalla dalla scena politica te ne torni a milano a casa tua e stai lì dentro casa a a criticare tutto il giorno quello che sta succedendo nel governo giustamente lui dice meglio meglio stare dentro il governo che stare fuori però c'è un problema elettorale a cui non può non fa dar conto matteo salvini che il partito poco alla volta continua continua a scendere sempre di più giorgetti ai tempi lo aveva rassicurato dicendo ma guarda all'inizio perderemo dei voti è normale ma poi ne acquisteremo molti di più quanto dura questa perdita di voti cosa vuol dire questa perdita di voti che dice giorgetti vuol dire scendere al 18 per cento per poi magari risalire per poi magari risalire perché se sei nel governo e comandi allora i voti possono tornare ma se sei nel governo e tutti i giorni quello che vedono gli italiani è che la sinistra lo insulta e draghi lo ascolta a tratti a volte sì a volte no probabilmente non è non è quello il modo per fare ricrescere per fare ricrescere nei sondaggi il partito perché potrebbe avvenire in poco tempo anche il sorpasso di fratelli d'italia a matteo salvini crosetto uno dei fondatori di fratelli d'italia parlava dei due entro due anni fratelli d'italia arrivare a oltre il 25 per cento quindi una sostituzione no il fratello d'italia prende il posto della lega e la lega prende il posto di fratelli d'italia quindi un avvicendamento ai vertici del centro-destra ma anche ai vertici della leadership italiana come partiti politici io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook in instagram nell'altro canale di youtube teleitalia seconda rete siamo poi nel nella community dove lì sono tanti sondaggi quali potete partecipare per chi volesse ci sono anche i gli abbonamenti l'abbonamento da un euro per vedere i video ore prima che vengano pubblicati e l'abbonamento da 2 euro 99 per vedere e oltre i video ore prima a vedere anche dei video solo per chi ha questo abbonamento grazie a tutti e buon proseguimento di giornata